Ecco, per Castellana Presonale c'è una notizia molto interessante, c'è un privato che ha avanzato una proposta che potrebbe davvero cambiare il destino della zona qui dell'ex colonia della Darmine. È una proposta shock improvvisa che non ci aspettavamo ma che stiamo valutando in modo molto importante. Un gruppo di imprenditori importanti, bergamaschi e milanesi, ci hanno proposto di fare uno Sky Dom. Cos'è uno Sky Dom in l'area della Dalmi? È semplicemente una casa della neve, una casa della neve dove si può sciare tutto l'anno. Una proposta fatta anche a Selvino e che viene riproposta a Castellana, una proposta importante perché cambierebbe il volto degli innevamenti in tutta Castellana, cambierebbe il volto di quest'area della Dalmine e cambierebbe il volto stesso della Dalmine che potrebbe diventare un importante albergo della zona. Quindi qui si potrebbe venire a sciare in sostanza anche d'estate e poi sarebbe uno Sky Dom, quindi una struttura dove si può sciare proprio il ridosso del tessuto urbano di Castellana? Sì, è una struttura molto avveneristica con un impatto importante, ben visibile anche all'esterno e che consentirebbe di sciare sia d'inverno sia d'estate, tutto l'anno a qualsiasi temperatura senza problemi di dover fare la neve, di dover aspettare la temperatura giusta. Praticamente andrebbe a completare tutta l'offerta degli sport e del turismo di Castellana. Allora potrebbe essere venduta anche la Dalmine nell'ottica di poter interessare un privato che volesse avviare un albergo? È interessante anche questo perché i privati sarebbero molto interessati a acquistare la Dalmine, a farne un albergo, un albergo con spa, un albergo con rigenerazione delle persone, un albergo legato proprio a questo sport e al turismo. Per ora di questo ski dome si conosce solo il nome, dovrebbe essere Shark Dome, Shark in inglese sta per squalo. Esatto, il nome è quello, la struttura può avanzare anche una pinna di squalo che si vede su tutta l'area della Presolana proprio per dare il senso che lì esiste uno squalo, uno squalo dove si può sciare. Uno squalo, quindi una pinna tra gli alberi del Parco della Dalmine. Esatto, una cosa molto interessante anche perché in montagna sicuramente sarebbe di grande richiamo soprattutto perché visibili da tutto il paese.